però poi un po' da fuori, in grado di via e quando scusate a presto, sei quasi il petto dei piedi andiamo a che ti si sai, il genio viene sempre fuori da stegno ma qui non sempre fuori da stegno e qui non è sempre più fermo e qui è benissimo e qui è benissimo Grazie a tutti Grazie a tutti